Mano sul claxon e vento in faccia, è tornato ad Arezzo come ogni primo maggio il raduno nazionale Vespa Arezzo che quest'anno prevedeva il tour d'Arezzo a Cortona rigorosamente in sella ad una Vespa. L'evento giunto alla ventunesima edizione riunisce ogni anno centinaia di Vespisti da tutta Europa, tra gli 800 partecipanti infatti sono arrivati anche i rappresentanti dei club dal Belgio, dalla Francia, dalla Svizzera e dall'Ungheria. Benissimo perché con le previsioni che erano state annunciate inizialmente avevamo avuto un calo di prenotazioni ma invece oggi, nella giornata di oggi, è riesploso la voglia della Vespa, la voglia di libertà e tutti sono arrivati qui al Prato a fare la sua prenotazione. Promosso dal Vespa Club Arezzo sotto l'egida del Vespa Club Italia, con i patrocini dei comuni di Arezzo e Cortona, è una delle più importanti e partecipate manifestazioni che hanno al centro questo iconico mezzo di trasporto. Andremo quest'anno nella cittadina di Cortona, passando dalle vie laterali per non disturbare il traffico locale.